Bentornati miei cari ospiti al salone della storia della locanda. Oggi continuiamo quel piccolo excursus sui prodromi della rivoluzione francese parlando di Filippo II di Borbone Orléans. Il duca Filippo d'Orléans fu il reggente francese che fece arrivare Jean Law alla carica di ministro delle finanze e che poi porterà a tutti gli eventi della rivoluzione francese che avverranno molti anni dopo. Il duca Filippo nato a Saint-Claude il 2 agosto 1674 e morto a Versailles il 2 dicembre 1723 è stato un politico generale francese. Era figlio di Filippo I di Borbone Orléans e della sua seconda moglie Elisabetta Carlotta di Baviera, principessa palatina. Fu reggente di Francia durante la minore età di Luigi XV dal 1715 al 1723. Biografia Giovinezza Ebbe la sua prima esperienza come soldato nell'assedio di Mons nel 1691. Combatte con onore a Stinkerck, Nerwidnen e Namur dal 1692 al 1695 e negli anni successivi, trovandosi senza occupazioni, si dedicò a studiare le scienze naturali. Nel 1692 sposò Francesca Maria di Borbone di Francia, nota come Mademoiselle de Blois, figlia legittima di suo zio Luigi XIV, quindi sua prima cugina, e di François Tenet de Montespan. Questo matrimonio gli guadagnò i favori del re. Per accrescere il proprio prestigio, risuscitò il nome dell'antico ordine dei cavalieri templari. Nel marzo del 1705 dichiarò di succedere a Jacques-Henri de Dufourre come maestro del Tempio e pose fine alla presunta esistenza segreta dei templari, convocando l'11 aprile un capitolo generale a Versailles che promulgava nuovi statuti e con il quale veniva riconosciuto gran maestro. Con questo fatto diede legittimazione al neotemplarismo. Fu mandato a combattere in Italia nel 1706 ed in Spagna nel 1707-1708, dove ottenne alcuni successi importanti, ma non dissimulò le sue notevoli ambizioni e si pensò ambisse a sostituire il cugino Filippo V di Spagna sul trono. Luigi XIV si arrabbiò molto per questo e per molto tempo il duca ha perso i favori reali. Tuttavia, anche in seguito alla penuria di principi del sangue vivi, nel suo testamento lo nominò presidente del consiglio di reggenza del nipote re Luigi XV. La reggenza Alla morte di Luigi XIV, il 1 settembre 1715, l'unico discendente diretto maschio vivente del sovrano era il pronipote di cinque anni, Luigi, che salì al trono come Luigi XV di Francia. Il duca d'Orléans andò al Parlamento, fece invalidare il testamento sovrano, si investì del potere regio e divenne reggente del regno. Inizialmente fece diminuire le tasse, licenziò 25.000 soldati e istituì la Camera di Giustizia per perseguire i sospettati di arricchimento finanziario. Ma le misure draconiane che stava impiegando contro i banchieri crearono problemi, non essendo un provetto economista. Si dimostrò abbastanza debole nei confronti delle rischiose operazioni del banchiere John Law, il cui fallimento condusse ad una crisi disastrosa degli affari pubblici e privati francesi. Il 6 giugno 1717, sotto l'influenza di Law e del duca di Saint-Saint, il reggente persuase il consiglio di reggenza a comprare da Thomas Pitt il più grande diamante nel mondo a quel tempo, un brillante di 141 carati, 28,2 grammi, per i gioielli della corona di Francia. Il diamante fu conosciuto da quel momento in poi come l'Eragent. Esisteva un partito degli scontenti che volevano trasferire la reggenza dall'Orléans a Filippo V di Spagna, suo cugino e nipote anch'esso di Luigi XIV. Sorse una cospirazione sotto la guida del cardinale Giulio Alberoni, primo ministro di Spagna, diretta dal principe di Cellamare, ambasciatore spagnolo in Francia, con la complicità del duca e della chiesa del Maine, figlio legittimato di Luigi XIV e sua moglie, ma nel 1718 venne scoperta ed annientata. Guillaume de Bois, già precettore del duca di Orléans ed ora suo primo ministro, dichiarò allora guerra alla Spagna con l'alleanza dell'imperatore Carlo VI d'Inghilterra e dei Paesi Bassi. Dopo alcuni successi del maresciallo francese, il duca di Berwick in Spagna e delle gruppe imperiali in Sicilia, Filippo V giunse ad un accordo di pace. Alla maggiore età del re, il 15 febbraio 1723, il duca di Orléans rinunciò formalmente al potere, diventando solo il primo ministro del sovrano, carica che avrebbe mantenuto fino alla morte il 23 dicembre 1723. Morì al palazzo di Versailles e fu sepolto nella città dove era nato Saint-Claude. Personalità ed opere Il reggente aveva molte grandi qualità, messa in ombra però da un eccessivo amore per i piaceri ed il lusso. Le sue abitudini dissolute trovarono molti imitatori e la reggenza fu uno dei periodi più corrotti nella storia francese. Filippo era un ateo che si vantava di leggere le opere satiriche di François Rebele nascoste dentro una Bibbia durante la messa. Amava poi dare orge durante i periodi delle festività religiose e in particolare durante il Venerdì Santo. Proprio per il suo ateismo favorì il jansenismo per avversare l'autorità papale. Contestualmente Saint-Simon riferisce che il reggente spese cifre enormi per consultare medium e sedicenti maghi che promettevano di metterlo in contatto con Lucifero. Recitò in opere teatrali di Molière e di Racine, compose un'opera e fu un pittore e un incisore dotato. Era un gran collezionista d'arte e la sua collezione di dipinti, in gran parte venduta a Londra dopo la rivoluzione francese, fu una delle più raffinate della sua epoca. Uomo liberale e pieno di ingegno fu anche spesso debole, contraddittorio e vacillante. Ciò nonostante come reggente mutò i comportamenti del governo e della nobiltà portandoli dalla zelante ipocrisia dei tempi di Luigi XIV alla sincerità completa che spesso sconfinava nel cinismo. Contro la censura ordinò la stampa dei libri vietati sotto il regno dello zio. Invertendo le politiche dello zio Luigi XIV formò un'alleanza con l'Inghilterra, l'Austria e i Paesi Bassi e combatté una guerra vittoriosa contro la Spagna, gettando le basi per una stabile pace europea. Filippo promosse l'educazione, rendendo la Sorbona priva di tasse ed aprendo la Biblioteca Reale al pubblico nel 1720. È però ancora oggi ricordato più per la corruzione morale che portò a Versailles e per lo scandalo bancario di John Law. La città di New Orleans in Louisiana ha preso il nome da lui. E con questo abbiamo terminato anche questo podcast. Spero che vi abbia interessato la figura di questo reggente che ebbe molte particolarità nella sua personalità. Alla sua morte e alla partenza di John Law lasciò il governo francese completamente privo di debito pubblico. Questo però condusse i nuovi governanti a chiedere di nuovo prestiti e questo portò alla disastrosa crisi finanziaria che portò la Francia sull'orlo della rivoluzione francese. Grazie a tutti. Grazie a tutti.